Matteo, categoria Scaled, Waddi qualifica 1 Roma Trotano 2020 Scusa mi ripeti un attimo la categoria che non ho capito? Scaled! Grazie 22 e mezzo 22 e mezzo Ciao 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 Oh special guest Andrici Federico Ma si perché poi è la fine Cioè potete andare a continuare a scuola Ma si perché poi è la fine Cioè potete andare a continuare a scuola Allora Matteo Qua siamo brutti C'è solo da scendere il motore Qua si è? Posing? Eh? Si parte dai cluster Si No Si sei? Facciamo dei filari Andrici 10 1 2 1 2 2 3 4 1 2 2 3 3 E 4 Vai col giro da Z 5 1 2 3 4 4 5 2 1 2 3 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 8 12 11 12 8 8 8 10 9 8 10 12 9 10 10 11 11 11 13 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 minuti e 0 genote 1 2 3 4 5 6 7 8 a voglia volete al giro da 10 si sa via facci le prove faccio la 8 no devi farci la 10 vai ma sei grande 1 2 e 3 4 5 6 7 7 8 9 1 10 10 10 11 10 11 12 12 12 3 4 5 6 7 8 occhio a te 9 9 10 10 10 12 13 13 14 15 15 15 21 21 22 22 22 23 23 23 25 25 25 26 25 26 26 27 28 28 25 28 29 28 29 29 20 30 30 30 30 30 40 30 11 e 12 ok mattia 8 e 45 45 minuto e 15 e se ti chiude questo da 12 dai 1 2 3 4 Quattro Cinque Sei 30 secondi Sette Otto Nove Dai, dai subito Matti, subito Adesso le diamo a te 10 11 Stop